Però ci è venuta a trovare una persona molto importante, trovata in persona, Corrado Luzzo. E allora ha abbandonato la città, la metropoli, per andare e tornare a vivere in campagna. Non in campagna, nel suo paese d'origine, diciamo. Lui era un giornalista affermatissimo. Lui è ancora un giornalista, Corrado. Aspetta, lo stavo dicendo. Era un giornalista, ha fatto questa pausa in cui non ha fatto il giornalista, è tornato ad essere giornalista e è tornato nel suo paese. Abbiamo con noi il grandissimo Davide Carlucci. Grazie davvero di essere stato. Ciao Davide, ciao Davide. Grazie a tutti. Noi ti abbiamo invitato qui perché eri proprio l'esempio giustissimo di quello che da Milano faceva un lavoro come il giornalista ed è ancora un giornalista ed è andato nel paesino. Qual è il paesino? Acquaviva delle Fonti. Che poi è un paese... No, già il nome, Acquaviva delle... provincia di Bari. Provincia di Bari, però ci sono tanti abitanti. Quanti abitanti? Beh, 20.000 abitanti. Ah, beh, non è piccolissimo. Però è una scelta comunque diversa da stare a Milano. Sì, beh, Milano era bella, però io volevo tornare dalla mia terra. Hai sentito queste suggestie? Eh sì, perché poi ho avuto l'apparizione, ho visto mio nonno che è emigrato 30 anni fa, 50 anni prima di me. Hai visto in sogno. Hai visto in sogno. Quindi ho detto che lui è emigrato, io che non devo emigrare, nemmeno io, insomma, sono tornato da Acquaviva delle Fonti. Beh, è un fenomeno, tra l'altro, scusami, è un fenomeno abbastanza diffuso, credo si chiami il downshifting, no? Cioè quelli che tornano dalla grande città, abbandonano la carriera. Sì, ora sì. Poi con lo smart working, certo, è certo. South working. No, quanti anni fa però l'hai fatto tu? Io l'ho fatto nel 2013. 2013. 2013 e a un certo punto sono andato a Pasquetta con gli amici e poi a un certo punto così, per gioco ho iniziato a dire, perché non ti canti da sindaco? A un certo punto si sono messi tutti a fare il sindaco. Il tifo per te. Il tifo per me e poi, insomma, era Pasquetta e alla fine, insomma, alla fine è andata a finire che sono diventato. Aspetta, aspetta, di solito, era Pasquetta, è finita la festa e ce ne siamo andati a casa. Era Pasquetta e poi Jaco ha detto sì. Ed è stata una bella esperienza, ti sei pentito? No, 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 non mi sono pentito, però adesso basta. Le tante battaglie che hai portato avanti ad Acquaviva delle Fonti, noi ne abbiamo trovato una online. Che ci ha colpito. Ci ha molto colpito. È la mia battaglia preferita. Guarda un po', guarda un po' che abbiamo trovato. Questo è un messaggio istituzionale trash che vogliamo mandare da Acquaviva delle Fonti in tutto il mondo. Io sono il sindaco di Acquaviva delle Fonti e vi annuncio che presto le nostre cipolle invaderanno le tavole di tutto il pianeta. Abbiamo delle cipolle rosse, buonissime, ottime, ideali da fare al forno, con l'agnello o fritte o in insalata. Oltretutto a un certo punto hai fatto pure il rigurgito. E' salita la cipolla. E' tornata sulla cipolla. No, quella è stata, diciamo, la prima cosa... Quella è nata, quella cosa lì, quando... Ero appena stato eletto sindaco e ho capito che non c'avevo manco una lira. Ho detto io, come devo fare per promuovere la cipolla? Faccio un video e ho fatto questo video e insomma... E? Poi abbiamo fatto anche la canzone, cipolla rossa la triunferà, insomma... Madonna, davvero lo saputo, davvero lo saputo. Tu sei anche presidente di Assi, che è l'Associazione dei Sindaci del Sud. Sì. E portate avanti, anche con le associazioni del posto, il fenomeno della restanza. Beh sì, insomma, noi stiamo cercando un po' di... Siccome il Sud, io da quando, non so voi, ma io da quando sono nato, che sento parlare della questione meridionale, pure mio nonna, e voglio dire... E quindi diciamo, cerchiamo di fare qualcosa perché non si parli più di questa benedetta questione meridionale, cioè che il Sud, più o meno, non dico che, però, insomma, sia più o meno a livello del Nord o del resto d'Italia. E quindi abbiamo, insomma, noi cerchiamo di promuovere tutte quelle realtà che cercano di... e da parecchi anni ci sono, che cercano di radicarsi nel territorio, di fare il percorso al contrario, cioè, basta, cioè, tutti questi ragazzi che vanno via, eccetera, eccetera, alcuni, ecco, stanno portando avanti... La restanza. Questo tema della restanza, che poi è anche un libro di Vito Tetti, che è un antropologo, cioè un bellissimo libro, però molti la stanno praticando, ed è una cosa molto bella perché, insomma, si comincia finalmente a credere nella propria terra. Oh, bellissimo. Io voglio che tu chiudi il tuo intervento proprio con due parole, con un inno, arrestare dei borghi, all'arrestanza. È bellissimo. Una puntata artistica questa. A Milano ogni pietanza imponeva resilienza. Era meglio fare senza o svoltare sulla pinza, al tartufo, con la lonza o a biologica semenza. Poi ne ebbi abbastanza e puntai verso piacenza e poi giù, oltre faenza. Questa, sì, fu intelligenza. Ora datemi udienza, terronella figliolanza. Se aumentano la stanza e il conto va in perdenza, non perdete la speranza. Riscoprite la restanza. Chi ne gioverà è la panza. Olè! Ma che bello! Grazie Davide!